E noi siamo qui oggi per riclamare quello che è nostro, i nostri diritti. Abbiamo chiesto la regola di isolazione, vogliamo i documenti. Nelle campagne non mancano il cibo, mancano i diritti. La libertà per tutti, documenti per tutti. E' questo che siamo qui oggi per chiedere all'Italia, senza avere paura. Sono i nostri diritti che chiediamo. Stiamo chiedendo i nostri diritti. Quali i nostri diritti? Il permesso soggiorno è primo. Il permesso soggiorno, la testa della sanitaria per curare, a chiedere i nostri diritti. Permesso soggiorno è per tutti e tutte. Vuol dire abolire i decreti, scusatemi, in sicurezza. Perché generano, creano illegalità. I decreti vanno cancellati, vanno aboliti. Non c'è luogo di fare operazione di macchiage. Il dibattito è sul decreto numero due. Ma l'anima è il decreto numero uno. Bisogna cancellarli, signor Presidente Conte. Perché possiamo. Perché dobbiamo. Perché possiamo. Perché dobbiamo. Perché possiamo. Perché dobbiamo. Perché dobbiamo. Perché dobbiamo. Perché dobbiamo. Perché dobbiamo.